Rita Turin è la garante per l'infanzia e l'adolescenza del Piemonte e sta concludendo il suo mandato che è iniziato a fine 2016. Tre anni molto intensi di lavoro, a vantaggio di una popolazione come quella dei bimbi in particolare, che ha tante sofferenze e tante problematiche. Sì, bambini e adolescenti che sono sempre meno in Piemonte. Uno dei problemi grandi della nostra regione è la denatalità, che è un problema che nasce da lontano e che purtroppo non vede un'inversione di tendenza. E questo è uno dei problemi. Gli altri problemi che si aggiungono sono quelli legati a una situazione di povertà che sembra non essere in remissione, problemi di famiglie che non sempre sono adeguate ai bisogni dei loro bambini e dei loro ragazzi, genitori non sufficientemente attenti a questi bisogni e tra questi purtroppo c'è una fascia di popolazione che è in aumento, in costante aumento, ci dicono i tribunali ordinari, che sono quelli che si separano. Ecco, a questo proposito, lei come garante dell'infanzia e dell'adolescenza ha strettamente collaborato in questi tre anni con il nostro ente, la città metropolitana, proprio sul tema della mediazione e dei conflitti tra genitori. Sì, certo. È stata proprio un'esperienza, direi, peculiare, quella tra l'ufficio del garante e città metropolitana, ufficio mediazione e cesedi, che ha permesso non soltanto di analizzare e studiare il fenomeno, ma anche di pensare a delle proposte che andassero nella direzione di tentare di lenire la sofferenza di questi bambini e di questi ragazzi. Dicevo che ci sono coppie che si separano in numero sempre maggiore, si separano sempre più precocemente e sono sempre di più le coppie che non hanno mai neanche convissuto. Quindi nascono dei bambini che non hanno mai visto convivere totalmente la loro famiglia. Ma soprattutto la cosa più grave è che le separazioni sono delle separazioni fortemente conflittuali che si protraggono molto a lungo nel tempo. Questo genera nei bambini e anche nei ragazzi più grandi una sofferenza davvero indicibile. Allora, per lavorare su questo tema bisogna fare tante cose, non basta, non c'è una soluzione univoca. Con Città Metropolitana siamo riusciti a individuare un target da coinvolgere e sono stati gli insegnanti. Grazie a Cesedi che questa struttura straordinaria per le competenze che esprime, devo dire che io sono rimasta veramente colpita dalle competenze che Città Metropolitana offre alla cittadinanza, sia come mediazione, come ufficio mediazione, ufficio rapporti del sociale, diciamo, e sia a Cesedi, competenze anche molto diverse, di cui c'è bisogno di entrambe. Siamo riusciti, grazie appunto a Cesedi, a organizzare, a proporre nel catalogo che ogni anno Cesedi propone ai suoi insegnanti, un percorso di formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado. E questo l'anno scorso, l'abbiamo ripetuto anche quest'anno. E abbiamo avuto una reazione che ci ha anche sorpreso, di moltissimi insegnanti che hanno aderito alla nostra proposta, un breve corso di aggiornamento, con le nostre forze non avremmo potuto fare di più, dove Città Metropolitana con Cesedi sono stati gli artefici di questo piccolo format, piccolo per la riduzione delle ore, ma secondo me grande come intenzione, come proposta vera, reale, di andare incontro agli insegnanti nei problemi che affrontano ogni giorno, che sono più di uno. Intanto sono la conflittualità dei genitori, che non molla neanche a scuola. Quindi quello è un problema, sapersi porre equidistanti, non parteggiare per nessuno se non per il bambino e per il ragazzo, perché poi bisogna sapersi schierare dalla parte giusta, però in questo caso è solo quella dei bambini. E poi abbiamo saputo, avuto conferma anche da loro, di quanta sofferenza ci sia in questi bambini. Ci hanno detto che la percentuale di bambini, di figli, di genitori separate aumenta via via, che aumentano le classi che frequentano, con una sofferenza indicibile, dove spesso il vero, unico porto sicuro è la scuola. Lì sanno che troveranno la loro classe, i loro compagni, il loro banco, soprattutto la loro maestra. Quindi hanno una certezza di dove potranno stare per lo spazio dedicato allo studio. Presso il Tribunale di Torino, la città metropolitana, in collaborazione col Tribunale, ha aperto questo sportello informativo proprio per i genitori che vivono separazioni conflittuali. Mi diceva poco fa che sarebbe importante estendere l'esperimento in tutto il Piemonte. Io penso che questo sportello, gestito da personale con delle competenze importanti, perché è una vostra mediatrice familiare che gestisce questa attività in collaborazione con l'URP, con l'Ufficio di relazioni col pubblico. Uno sportello che va detto, fortemente voluto dal suo Presidente, del nostro Tribunale, perché, come dicevo all'inizio, c'è un gran bisogno di operare su questa fascia di problematica. È uno sportello che, a mio giudizio, in collaborazione, centri per le famiglie, enti gestori dei servizi sociali e tribunali ordinari, dovrebbero potersi aprire presso gli URP di ogni tribunale ordinario per dare quel sostegno di informazione precisa, mirata, puntuale, alle coppie che si separano, che accedono all'URP dei tribunali, sia in coppia sia separatamente, per avere contezza del molto in fondo che c'è. Per esempio, i gruppi di parola sono una risorsa straordinaria per i figli, perché in quella situazione possono finalmente, in modo libero, parlare dell'esperienza che stanno vivendo. La sua esperienza come garante si sta concludendo? Possiamo dire che, nonostante le difficoltà, è stata un'esperienza positiva? Allora, le difficoltà sono state iniziali. Iniziali perché, nonostante la mia lunga esperienza, ho lavorato 42 anni nel campo del sociale e avevo timore di non essere in grado, naturalmente, di svolgere una funzione che, va detto, non era mai stata concretizzata, attivata in Regione Piemonte. La legge è stata insonne per circa sei anni, prima che il Consiglio regionale nominasse il primo garante nella mia persona. Poi, un attimo ancora di spavento nel non avere risorse, risorse anche qui davvero molto, molto limitate. A pochi giorni dalla nomina, devo dire, c'è stata una coincidenza molto fortunata con una impiegata molto disponibile, volitiva, insomma, molto capace e interessata all'argomento e poi, in un secondo tempo, un funzionario, un giurista. Il team, zero euro di budget, quindi sono stata accolta un po' dall'angoscia di non poter fare nulla. E poi, invece, a distanza adesso di tre anni, in particolare per quanto riguarda l'assenza di finanziamenti, devo dire che forse sono stato un punto di forza, perché questo mi ha obbligato a guardare fuori, a cercare ciò che, in fondo, sapevo esserci e c'è comunque molto di più di quello che immaginassi. Un'altra mia difficoltà era quella di passare dall'ambito comunale, in cui avevo sempre lavorato, un comune grande, quello di Torino, ma comunque un comune, e quindi avere una visione più generale sulla regione. Devo dire che, tirando le somme, dopo tre anni, è stata un'esperienza straordinaria, molto positiva, vincente, che mi ha dato molto, come dicono i nostri tutori volontari, per i minori stranieri non accompagnati, quando interrogati sul punto, mi ha dato molto di più, ho ricevuto molto di più di quello che ho dato, insomma.